Cosa consiglia oggi Penny? Lavate bene le ciliegie e togliete il nocciolo Poi mettetele a macerare con 60 g di zucchero in frigo per 4-5 ore Riprendete le ciliegie e mettetele in padella con il succo ottenuto E fate cuocere a fiamma bassa fino ad avere un composto tipo marmellata Spegnete la fiamma e fate raffreddare Nel frattempo mettete in un tegamino l'acqua e aggiungete lo zucchero Mettetelo poi sul fuoco e spegnetelo quando lo zucchero si sarà sciolto E avrà formato uno sciroppo Sbattete in una ciotola i tuorli e aggiungete poco alla volta lo sciroppo Bello caldo e mescolate bene A questo punto passate a montare la panna ben ferma Aggiungete i tuorli E mescolate dal basso verso l'alto Aggiungete poi le ciliegie E mescolate sempre dal basso verso l'alto Ricoprite uno stampo da plum cake di pellicola E distribuite sul fondo le meringhe Versateci sopra il composto di ciliegie Livellate bene Coprite con una pellicola e mettete in freezer per circa 8 ore Tirate fuori il semifreddo alle ciliegie poco prima di servirlo Affettatelo e servite il ruolo guarnito con altra meringa Servite il ruolo guarnito con altra meringa Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!